Vasta operazione dei carabinieri questa mattina, le prime luci dell'alba ad Arona, Castelletto e Vergante. 250 persone delle forze dell'ordine hanno operato, aggiunte con un elicottero della stazione di Volpiano. Capitano, come è nata questa operazione? L'operazione è nata nel corso dei controlli che quotidianamente le nostre pattuglie fanno sul territorio, soprattutto in occasione dei fini di settimana, quando la Movida porta ad Arona numerosi ragazzi. In una di queste occasioni la pattuglia della stazione di Arona ha intercettato un ragazzo che aveva appena comprato 5 grammi, 5 palline di cocaina. Da lì abbiamo sentito questa persona e abbiamo iniziato a ricostruire a ritroso tutta quanta la filiera che aveva portato all'accessione di questo stupefacente. Quindi aprendo un mondo che ci ha portato al termine di qualche mese di indagini alle ordinanze odierne dove abbiamo arrestato 13 persone e altre 14 sottoposte a misure alternative. Quante persone avete sentito? Diciamo che nel corso dell'attività abbiamo sentito circa tra le 80 e le 90 persone, tutti quanti i consumatori. Giova sottolineare che non si tratta di soli giovani o di soli ragazzi che comunque sono stati individuati nel contesto della Movida. Sicuramente si tratta di ragazzi ma si tratta anche di persone con molti più anni di età. Sostanzialmente è emerso un quadro in cui l'assuntore andava dall'anziano che magari era uno stimato professionista fino ad arrivare al ragazzino che arriva durante il fine settimana per divertirsi ad Arona. La cerchia? Il territorio in cui si è operato si è mosso dal comune di Arona dove tutto ha avuto inizio per spostarsi poi a Castelletto, quindi qua vicino. La zona dei comuni dell'Alto Vergante pure è stata una zona dove abbiamo eseguito oggi numerose ordinanze. A riprova del fatto che al di là dell'iniziale individuazione di un gruppo di spacciatori la rete era molto più estesa a gran parte del territorio novarese sul Lago Maggiore. Quindi gli assuntori, visto che parliamo di Movida, arrivavano dal Lombardia anche dintorni dell'Aronese? Sì, diciamo lo spaccato che è emerso è che gli assuntori legati ovviamente al contesto della Movida erano assuntori che quindi venivano sia dalle province Limitrofe, quindi le province Lombardia, Varese, Verbania, ma dalla stessa intera provincia di Novara. Altri assuntori che invece facevano riferimento a una rete di spaccio più locale erano in realtà del luogo e appunto facevano riferimento a degli spacciatori che erano un po' i loro rivenditori di fiducia. Altri assuntori che erano un po' i loro rivenditori di fiducia,